L'esercito iracheno circonda la grande moschea di Mosul, dove nel giugno 2014 Abu Bakr al-Baghdadi proclamò il califato. Gli ultimi metri sono i più difficili. Nelle strade strette della città vecchia, i veicoli militari non passano e si combatte casa per casa. Gli uomini della coalizione anti-ISIL puntano al minarito di Al-Abda. I droni iracheni studiano i movimenti di jihadisti rimasti senza comandanti sul campo. Anche al-Baghdadi è fuggito nel deserto. Nonostante le condizioni meteo avverse, le nostre forze stanno avanzando verso i rispettivi obiettivi. Mancano ancora pochi metri per raggiungere la moschea di Al-Nuri, un tempo il quartiere generale di Abu Bakr al-Baghdadi. 600 metri separano l'esercito iracheno dalla grande moschea, ma la battaglia è complicata dalla presenza dei civili, di oltre 150.000 costretti a fuggire dai quartieri occidentali di Mosul. La situazione è terribile, l'ISIL ci ha distrutto, non c'è cibo, non c'è pane, non c'è più nulla. Chi non trova alloggio nei quartieri orientali della città, la maggior parte, viene trasferito nei campi profughi, a 20 chilometri da Mosul. Sono almeno 450 le vittime innocenti di questa offensiva finale.